Ci troviamo in un luogo che racconta la vita e le opere di un uomo, di un santo, Cesare Debius, e della congregazione da lui fondata, i padri della dottrina cristiana. Il luogo desidera raccontare la vita e la missione, che è la Catechesi, attraverso tre ambiti. Il primo ambito è l'ambito della parola, quindi in questo luogo troveremo alcune scritte che ci narrano brevemente la vita di San Cesare, la missione della congregazione, il processo di canonizzazione di San Cesare, ma anche il processo di beatificazione di alcuni suoi figli. Il secondo ambito è l'ambito delle immagini. Incontreremo dei quadri che raffigurano San Cesare, incontreremo anche un breve video che narra la missione della congregazione dei dottrinari ancora oggi, che è la Catechesi. E poi il terzo ambito è proprio attraverso il vedere degli oggetti, che sono stati degli oggetti appartenuti a San Cesare, che sono arrivati a Roma grazie ai confratelli di Parigi. Vi do il benvenuto sia per visitare fisicamente questo luogo e ricevere questa eredità lunga 400 anni, sia anche, se visiterete questo luogo, attraverso il nostro sito dottrinari.org.